L'asla di Napoli rafforza i centri vaccinali, rimodulati gli orari attraverso l'impiego di più personale sia alla mostra d'oltremare che alla fagianeria di Capodimonte. Ma il contagio continua a correre, nuovo record di positivi con 11 492 infetti e l'incidenza che sfiora il 10%. Nell'ultimo bollettino dell'unità di crisi si registrano anche 10 decessi. Preoccupa l'aumento dei ricoveri, soprattutto nei reparti ordinari, ma anche in terapia intensiva. Intanto a Napoli è cambiata anche la geografia ospedaliera con il Loreto Mare, trasformato in Covid Hospital. Vincenzo De Luca intanto critica le misure del governo, giudicate insufficienti e chiede l'obbligo vaccinale oltre al lockdown per i Novax. Durissimo il giudizio del governatore sui provvedimenti adottati a Roma che denunciano una confusione indescrivibile, ingestibile e incontrollabile. Positivo al Covid, anche Gigi D'Alessio, l'artista, ha postato un video sui social. Sto bene fortunatamente, mi farò la quarantena a casa, aspettare il nuovo anno. Ne approfitto per farvi gli auguri a tutti di un buon anno, ma soprattutto vi auguro una buona vita. A Caserta, dopo il vertice in prefettura, il sindaco Carlo Marino ha vietato il brindisi in piazza a Capodanno. Non possiamo permetterci di perdere il controllo della situazione e il monito della fascia tricolore. Intanto si aggrava l'emergenza Covid per il trasporto pubblico. A Napoli la NM registra oltre il 25% di assenze tra gli autisti, tra contagi e quarantene. L'ordine dei farmacisti ha fatto sapere che in città si sta registrando un vero e proprio boom di tamponi in vista del Capodanno.